Ciao ragazzi, allora questo è un video che vi farò vedere in quanto tale vorrei farvi vorrei mostrarvi la mia collezione di tarantola anche se esiguo. Quindi iniziamo con questa, questo è la mia il mio ragno più anziano, this is my this is my oldest spider grammostola rosea, 15 anni, a circa 15 anni una femmina, she's 15, she's a female Brachypelma wagons, Brachypelma wagons, this is my female 5 inches Brachypelma wagons, it's pretty pretty nasty this is my wireless troglantus un momento solo Ed eccolo qua, questo è il mio Euatlus truculentus she's a female ok and let's see the slings, this is my ceratogirus sunderi I don't know if it is a male or a female it's too small, it's too small and this is my other sling it's a chromatopelma chalopobations this is an unsexted, unsexted spider because she is, or he is, too small too this is the dinner, Accheta domestica and the Blaptica dubbia alright guys, let's see let's see again, Euatlus truculentus Brachypelma wagons Grommostola rosea and my two slings, ceratogirus sunderi and chromatopelma chalopobations alright guys, see